Ciao da Apsim! Come funziona l'Allegrentus? Ce lo racconta Tognozzi, intervistato oggi clamorosamente su Tutto Sport con una prima pagina dedicata a Bellingham. Come se fosse bello che Bellingham poteva andare alla Juve e non c'è andato. Aggiungiamo anche rispetto a Holland, di cui già sapevamo, ma di cui si parla più nello specifico proprio in questa intervista. Una bellissima intervista, grazie Tutto Sport, grazie all'editore, grazie al direttore Guido Vaciago, anche perché dobbiamo proprio andare a riprendere evidentemente alcuni aspetti di come funziona l'Allegrentus, perché nell'intervista tra le altre cose si dice anche che a un certo punto, dice Tognozzi, che adesso è direttore sportivo del Granada, è riuscita a passare la filosofia nella società per cui bisognava puntare sui giocatori giovani andandoli a prendere prima che se ne fossero accorti gli altri. Tu pensa, cioè uno sta lì a dire, ah ma perché non è sempre stato così in una società ricca e tecnicamente attrezzata e quindi all'avanguardia potenzialmente come la Juventus? No, no, per anni non è stato assolutamente così, dice Tognozzi. Prima i giocatori arrivavano alla Juventus, vedevano la Juventus come un punto d'arrivo nella parte finale della carriera, adesso invece vedono la Juventus come una tappa importante per completare il proprio percorso di crescita e di maturazione. Sua opinione, poi magari effettivamente ci sono tanti giovani che pensano che la Juve sia questo, che l'Alegrentus sia questo, poveri loro perché non si rendono conto delle mani in cui si vanno a ficcare. Ma appunto perché dobbiamo ringraziare anche l'editore, ringraziare Vaciago, ringraziare tutto sport? Perché evidentemente Guido Vaciago deve essere stato anche testimone di quella filosofia diversa che veniva applicata, che veniva seguita in Juventus anni prima, quella a cui si riferisce Tognozzi che a un certo punto è stata messa da parte e quindi a un certo punto hanno incredibilmente cominciato a fare come dovrebbero far tutti e cioè anticipare le mosse degli altri, quindi evitare di andare in concorrenza, di andare a delle aste che fanno alzare poi il prezzo di un calciatore che magari hai già conosciuto e individuato prima. E quella filosofia era quella portata avanti probabilmente da Paratici, con tante operazioni che bisognava fare, tantissime operazioni, tutte quelle plusvalenze, tutte quelle operazioni dispendiose, esagerate. Perché è stato testimone di Vaciago? Perché non dobbiamo mai dimenticare che dall'inchiesta Prisma è venuto fuori anche che Vaciago telefonava a Paratici o viceversa e Vaciago diceva che Paratici aveva operato benissimo, quindi si complimentava con Paratici per quel modus operandi anche se naturalmente Vaciago è totalmente strano all'inchiesta, è giusto precisarlo, però intercettando Paratici fu intercettato anche Vaciago, circostanza confermata dal diretto interessato. Ma dobbiamo ricordarci questa cosa, non è che poi facciamo finta che ci siamo dimenticati che Vaciago telefonava a Paratici e si complimentava per il suo modus operandi, perché poi se ci dimentichiamo questa cosa diventa facile dire prima ci sono stati degli errori e quindi adesso dobbiamo abbassare l'asticella perché dobbiamo compensare gli errori che ci sono stati prima. Gli errori fatti alla luce del sole da chi veniva anche incensato per questo, da chi veniva anche, riceveva anche i complimenti per quest'altro modus operandi, perché se no vale tutto e se no è bella una cosa ed è bello il suo opposto e non è proprio una cosa coerente, non è proprio una cosa lineare e accettabile. Tralasciando questo, che cosa dice Tognozzi? La frase che mi ha scosso di più non è stata neanche la storia di Bellingham o quella di Holland, ma è stato quando ha detto adesso questi giovani che ho preso e portato alla Juve sono contento che saranno nelle mani di Allegri, perché è l'uomo ideale, l'allenatore ideale per la loro maturazione. Avrei voluto vedere, purtroppo non è una video intervista, sarebbe stato interessante vedere la faccia di Tognozzi per studiarne le espressioni, per capire se lo pensa davvero o quante smorfi ha dovuto fare con i muscoli facciali per dissimulare il fatto che una frase del genere proprio non ci sta. Ma secondo voi? No, ma davvero. Io capisco tutto sport, ma a parte che c'è anche un passaggio triste, veramente triste, patetico, e proprio cercano, fin dall'inizio dell'intervista, di rassicurare, no? Questi giornali di oggi che sono così rassicuranti nei confronti dell'uomo medio, eh? Qui dicono i big data, anche in un'epoca di big data, quello che conta per trovare il talento è ancora la vecchia scuola di andare a portocampo a guardare le partite. Ma perché qualcuno ha detto che il talento si scopre solo con i big data? Cioè anche il moneyball, no? Non è quello, tu vai a scovare i potenziali candidati per una selezione tramite i big data che ti facilitano la ricerca, ti fanno perdere meno tempo e ti fanno arrivare prima, poi li vai comunque a vedere, ci vai comunque a parlare. No, invece loro devono creare, come al solito, la dicotomia, perché se no, il povero lettore di Tutto Sport che pensa di essere un uomo mediocre, che pensa di essere un uomo mediocre, che pensa di essere uno che non ha espresso le sue potenzialità nella sua vita, no? E quindi, giustamente, cerca anche di compensare queste sensazioni leggendo Tutto Sport. E dice, ma io non sono nessuno, qui c'è gente che fa i big data, e io non capisco cosa sono i big data, e sono rimasto fuori dalla realtà. Allora ecco che arriva, Tutto Sport rassicurante, tipicamente allegriano in questo, le statistiche non contano, i dati non contano, conta fare l'allenatore sul campo, a bordo campo, con le sensazioni, la lettura della partita, e ti dice, no, non ti preoccupare, non sei fuori dalla realtà, non sei fuori dal mondo, non capisci niente di big data, i big data non servono a niente, fai come Tognozzi, che poi in realtà fa in maniera diversa. Bellissima questa scena davvero epica, una scena epica, il rassicurante Tutto Sport nei confronti dell'uomo medio. Ma in realtà Tognozzi è una cosa bellissima, cioè Tognozzi racconta che la Juve, o meglio, quella che dovrebbe essere la Juve, che oggi è alle Gretus, a livello di futuro, a livello di struttura della Rosa, l'ha fatta lui, l'ha fatta tutta lui, e adesso se n'è andato, l'ha fatta tutta lui e adesso se n'è andato. E perché se n'è andato? Bella, anche questa è stupenda. No, me ne sono andato perché dopo sei anni e mezzo si è chiuso un ciclo, io sono uno che vuole nuove sfide e quindi avrei potuto anche restare per godere delle vittorie che arriveranno, sì, certo, arriveranno, però ho preferito iniziare un nuovo percorso. Sembra credibile questa cosa. Dice, io poi con Giuntoli, nessuno gli ha chiesto di Giuntoli, nell'intervista dice, Giuntoli lo conoscevo da tempo, si è installato subito un nuovo rapporto, però me ne sono andato. E beh, no, va tutto bene, figuriamoci, chi può mai sospettare che ci fossero magari dei rapporti non proprio idilliaci. No, sicuramente andava tutto benissimo. Ringrazio la Juventus per avermi consentito di andar bene a stagione in corso. Avevo anche altre offerte, ho preferito andare al Granato, dove sto vivendo delle bellissime giornate, molto intense, sto facendo un grandissimo lavoro che mi appassiona. Voglio essere chiaro, per me Tognozzi è effettivamente un fenomeno, perché se gli è consentito di rivendicare praticamente tutte le operazioni, manca solo nominare Barrenecea, ma forse perché semplicemente non se n'è parlato, ma è chiaro che se sei andato a prendere Sule vai a prendere anche Barrenecea. Cioè lui ha preso Sule e l'aveva visionato già quando aveva 11 anni e già si era accorto di lui, poi non l'ha potuto prendere a livello contrattuale all'epoca, poi ha rischiato di perderlo perché nel frattempo altri si erano accorti di lui, ma sono riusciti comunque a prenderlo perché lui nel frattempo aveva intrattenuto certi rapporti con lui, con la famiglia e quindi quando si è presentata la Juventus, la Juventus è risuonata nella testa di Sule e lui ha detto Juventus, come ha dichiarato in una recente intervista, ci ha messo 10 minuti soltanto per scegliere la Juventus, in realtà anche meno. Ecco quindi il metodo Tognozzi è sempre stato questo, andare prima, arrivare prima, comunque in anticipo, comunque presto, non proprio prima di tutti, ma sempre presto, a capire qual era il talento, quali erano le caratteristiche di determinati giovani, determinati giocatori e poi iniziare ad intrattenere dei rapporti, delle relazioni, così da lasciare un segno nella mente del ragazzo che cresceva e nella loro famiglia, quindi un'accoglienza già di proporsi in avanti in modo tale che quando poi i discorsi si fossero riaperti la Juventus si sarebbe trovata in prima linea. Bel metodo, ma che ovviamente ha bisogno anche delle statistiche, ovviamente ha bisogno anche dei big data. Poi naturalmente il racconto viene anche ingigantito, ho dovuto fare la quarantena quando sono andato a prendere Caglio Giorgi in Brasile perché c'erano ancora le restrizioni nel 2021 e quindi poi ho dovuto fare Ferragosto chiuso nel J-Hotel, e beh insomma sono problemi, cioè per carità fa parte del lavoro, c'è anche di peggio, c'è di molto peggio sul lavoro, quindi questi possono essere casomai racconti di contorno per colorare la vicenda, ma non per appesantirla come a dire eroe Tognozzi che si è fatto la quarantena o che ha sfidato la bufera di neve per andare a vedere Huizen in Spagna, cioè capirai, c'è di molto peggio, c'è gente che anche in questo momento che sta guardando questo video o nel momento in cui lo sto registrando, ne sta passando di molto 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 peggio per lavorare, per sopravvivere. Questa è gente che fa il lavoro che ama, cioè che ha trasformato in lavoro ciò che ama fare e ci guadagna pure bene. E adesso non voglio essere populista, però è semplicemente per dire che raccontare certe cose bisognerebbe anche avere rispetto nei confronti del lettore, soprattutto se è quel lettore medio che dicevo prima, che purtroppo cerca conforto in tutto sport per superare la propria sensazione di mediocrità. Però appunto, ha portato lui sulle Huizen, Ildiz, adesso ha nominato Nonje, Mazzur e praticamente tutti, manca appunto citare soltanto Barrenecea, anche Vlaovic, persino Vlaovic l'ha portato lui, cioè Vlaovic, i rapporti con Vlaovic li aveva intrattenuti lui anteriormente, poi si è aperta la possibilità di prenderlo a gennaio 2022 e l'hanno acquistato. Quindi abbiamo anche un po' scoperto chi ha preso Vlaovic, evidentemente, o chi ha posto le basi per poter prendere Vlaovic e poi i due grandi rammarici, ovvero Bellingham e Holland. Cioè, capito? Noi dobbiamo pensare che c'è Allegri, c'è Allegri che sta peggiorando tutti, c'è Allegri che sta peggiorando tutti, compresi i giovani, si parla anche di Healing, si parla anche di Weah, cioè li ha presi tutti lui. Adesso se ne è andato e dice, però sono contento di aver lasciato una struttura di scouting che funziona molto bene. Sì, ma chi ti crede? Cioè, è normale che deve dire così come deve dire che Allegri è il migliore, perché, ripeto, avrei voluto vedere la faccia, ma è normale che tu, i tuoi rapporti che tu hai creato a livello umano, a livello personale, con determinati obiettivi, potenziali obiettivi di mercato, restano tuoi, te li porti al Granada, non è che dici no, li lascio a te. E poi ci sarà anche, magari, un accordo, ci saranno anche, evidentemente, ci sarà stata anche qualcosa a livello contrattuale per quanto riguarda questo, ma per quanto possa essere ottima, ben oleata la struttura scouting dell'Allegrentus. Comunque, ha fatto tutto Tognozzi per anni e questo non ci era mai stato raccontato, per anni non ci è mai stato detto. Si è stati anni a dire, Paratici ha fatto questo, Cherubini ha fatto quest'altro, Arriva Bene ha fatto questo, non era vero. Andavano solo a mettere le firme per lo più o a gestire l'altra parte, che era quella, tutto sommato, ordinaria, cioè di far quadrare i conti, ma quella è una cosa, sicuramente, anche complessa, difficile e che implica delle responsabilità, ma che non cambia nulla rispetto al valore del calciatore. Il valore del calciatore lo trovava Tognozzi per i contabili, tra virgolette, per chi fa la parte burocratica del calciomercato, che si vada a prendere su le, o si vada a prendere un altro, non cambia molto, non cambia molto, però la cosa interessante non è tanto Bellingham, che, a quanto dice Tognozzi, ha un po' tradito perché era stato approcciato, si voleva, si poteva far tutto, ma disse che voleva restare al Birmingham, e poi invece se ne è andato al Borussia Dortmund. Tralasciamo Bellingham, che è soltanto un'ulteriore ferita, nel momento in cui, appunto, abbiamo Allegri, tutti stanno peggiorando, e l'Allegrentos, dobbiamo pure sentire che ci siamo fatti soffiare Bellingham e Holland, ma la cosa interessante, che mi sembra che ci sia anche una novità nel racconto di Tognozzi, sulla storia di Holland, perché noi sapevamo che la Juventus era su Holland molto tempo prima, di tutti quanti, e l'avrebbe potuto portare prima anche che andasse, appunto, al Salisburgo, e il problema è che aggiunge Tognozzi un dettaglio, che si riteneva fosse troppo costoso come investimento per la primavera, perché stava in panchina al molde, poi comincia a giocare e a segnare, tutti si accorgono di lui e il Salisburgo gli offre un posto in prima squadra. Cioè, ma allora di che cosa parliamo? Lo vogliamo dire allora che questa metodologia è stata distruttiva. E parla del 2017, 2017-2018, Allegri c'era. Quindi il problema è sempre lo stesso, il problema è sempre lo stesso. Allora, i tifosi juventini che adesso magari dicono, oh, si poteva fare Holland, si poteva fare Bellingham, ma beh, sono stati sfortunati, non hanno capito nulla, come al solito, non hanno capito che si poteva fare e si poteva fare, la colpa è sempre di Allegri e di quella metodologia lì che bisognava far giocare i Kedira, i Chiellini, i Barzagli, i Pjanic, finché non ne potessero più, invece di dare spazio, e anche tutti gli altri, invece di dare spazio a chi... Dice, vabbè, ma quello era troppo giovane, come facciamo a sapere che bisognava buttare su di lui? Ma se è forte, se è forte e ti arriva il capo scouting e ti dice, guarda, questo è bravo, era appena arrivato Tognozzi, dice, in quel suo ruolo, in quel momento, ma aveva anche un'esperienza pregressa, perché dice, oh, 35-36 anni e sono 15 anni che faccio questo lavoro, quindi comunque, che sono comunque nel calcio, quindi aveva una sua esperienza, aveva... Se no, non andava a lavorare alla Juventus, cioè se prendi Tognozzi perché ti fidi di lui, ti va a dire, prendimi Holland, e dici, no, costa troppo, noi lo dobbiamo mettere in primavera, e pagalo quello che costa, pagalo quello che ti viene richiesto, anche se ti sembra troppo, ma non lo metti in primavera, e lo metti direttamente in prima squadra, che la next gen in quel momento non c'era. Ecco, adesso poi si parla anche dell'Under 23, la next gen, che sembra essere un passaggio ritenuto importante per questi giovani che vengono in bianco-nero, vedono appunto questo percorso di crescita. Si poi arrivano in mano ad Allegri, e infatti Iling che fine sta facendo? Se ne vuole andare. Vlaovic che fine ha fatto? Lo vogliono vendere e se ne vuole andare pure lui. Sule è stato mandato al Frosinone, Barerece al Frosinone, Kaijorge al Frosinone. Poi, gli altri, qui se nel Diz aggregato di prima squadra, quanto giocano? Quanto giocano? E dobbiamo dire che poi il Diz fa un bellissimo gol contro la Germania, e no però, e poi c'è Guardiola che non fa giocare Bob, poi viene fuori che Guardiola non fa giocare Bob, così. Di questo parliamo, questo è il livello anche in ambito giornalistico. Quindi, che cos'altro dire? L'intervista, vi lascio ovviamente il link nella descrizione, per correttezza, per semplice correttezza, per pur e semplice correttezza non dovuta e non merita, totalmente immeritata questa mia correttezza, da parte di tutto sport, ma quando uno è corretto è corretto, anche quando non riceve correttezza a propria volta, perché si tratta di credere in determinati valori, e quindi andate a leggere, se trovate anche altri spunti, per quanto mi riguarda è questo, è una cosa abbastanza, abbastanza, cioè fa anche un po' ridere, perché si capisce che c'è qualcosa di non detto, si capisce che c'è qualcosa di non detto, o di detto addirittura al contrario, soprattutto Allegri è il migliore per questi ragazzi, sì sì, certo, quindi alla fine Don Gnozzi perché se n'è andato, a mio parere se n'è andato, perché si è reso conto che lui ha fatto un lavoro straordinario, e gli va riconosciuto, ma è stato sprecato, cioè dopo che vedi che tutti quelli che tu hai preso, che valevano qualcosa, quasi tutti sono stati mandati via, dice sai che c'è, la smetto di prendervi, la smetto di portarvi le perle, cari amici, la smetto di portarvi le perle, e me le tengo per me, oppure le porto a qualcun altro, visto che non sapete valorizzarle, questa è la mia opinione, e magari non c'era neanche un buon rapporto con Giuntoli, o con, diciamo, la suddivisione del lavoro, una certa condivisione nella suddivisione del lavoro, condivisione di idee e di intenti, e quindi a presezione è andato, ha fatto benissimo, che cosa ne sarà adesso, del futuro della Juventus, al di là di Allegri? Eh, bella domanda, perché se Tognozzi era il fenomeno, era il top player, che portava i potenziali top player, adesso, adesso si vedrà, a chi continuerà nell'area scouting, e cosa riuscirà a fare. Mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, vi do lo spazio dei commenti, naturalmente, per il vostro dibattito, proseguite anche su Discord, link in descrizione al mio server, con tante chat per parlare di calcio, like al video se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese, per tanti vantaggi, e seguitemi pure su Absim Out, il mio secondo canale YouTube, con tanti video brevi sul calcio. Ci vediamo molto presto, e senza compromessi, sempre Allegri Out.